Domani rientro tra i banchi di scuola per bambini e ragazzi delle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana. Secondo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'anno scolastico inizierà con grande serenità. Abbiamo in Campania, spiega, il livello più alto di vaccinati nel personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dunque è ottimo il livello di vaccinazione. Dobbiamo fare uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Dal punto di vista della scuola, per la verità, abbiamo una situazione di grande tranquillità. Sapete che siamo la regione d'Italia che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, abbiamo un ottimo livello di vaccinazione, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dobbiamo fare ancora uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Ma siamo in una situazione incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere. Procederemo poi con i tamponi molecolari nelle classi sentinelle e manterremo alto il livello di attenzione e controllo. La situazione in ogni caso è incomparabilmente migliore rispetto un anno fa. Dobbiamo insistere. Conclude. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tratto se vogliamo stare tranquilli. Credo che cominciamo l'anno scolastico a metà settembre. Oggi in condizione davvero di grande tranquillità. Procederemo ovviamente con i tamponi molecolari nelle classi sentinella, quindi manterremo alto il livello di attenzione e di controllo, ma devo dire che siamo molto fiduciosi. Per il resto estendiamo il Green Pass quanto più è possibile. E sulla terza dose di vaccino De Luca non usa mezzi termini. Non ho timori, darò l'esempio. Partiremo con la terza dose dalle residenze sanitarie assistenziali, dagli anziani, dalle persone con disabilità, dagli immunodepressi e dai fragili.